Investimento mortale questa mattina intorno alle 10 e 30 lungo la provinciale della Val Seriana, al confine tra Albino e Gazzaniga, in prossimità del Ponte Vecchio che porta a Cene. La vittima è un 72enne di nazionalità marocchina che abitava ad Albino. L'uomo stava attraversando la strada, in quel punto molto trafficata, quando è stato travolto da un Audi. Sbalzato sul parabrezza e poi finito sull'asfalto, morendo praticamente sul colpo. Il personale del 118 non ha potuto fare nulla. A poca distanza dal luogo dell'incidente c'è un sovrappasso realizzato negli anni scorsi dalla provincia in seguito ad un investimento mortale, ma poco utilizzato.